Ciao a tutti ragazzi e benvenuti, io sono sempre Reticapa Bricks e questo è il mio canale. Un altro unboxing, sì, un altro unboxing, questo mese ne abbiamo fatti già 4-5. È stato un mese insomma ricco di omaggi, offerte e sconti, e quindi insomma ne ho approfittato. Poi c'erano tante cose carine da acquistare, quindi ne ho approfittato un po'. Come vi dicevo il quarto o quinto unboxing di questo mese, andiamo subito all'apertura. Allora devo dirvi che uno dei set che ho acquistato non me l'hanno mandato con quest'ordine. Infatti lo invieranno con il prossimo. Lo mandranno insomma a parte, proprio perché era già esaurito e quindi per la consegna ci voleva un po' di più. Infatti mi hanno inviato queste. Ok, completiamo la linea dei Brick Heads con dei Pirati dei Caraibi del Capitano Salazar. Insomma, non male, non male. Poi, tutti i piccoli set, l'omaggio di questo acquisto è che è una Polybag R3 M2. Davvero molto bella, poi la vedremo subito nel video successivo. Ok, poi ancora c'è una piccola sorpresa. Della linea Super Eros, il 76076, il jet di Capitan America. Davvero davvero bello, con una versione particolare di Capitan America. Fantastico. E poi, ragazzi, la sorpresa sono le due bustine della 17esima serie delle minifigure collezionabili. Insomma, questa è davvero una bella sorpresa. Ovviamente queste sono le prime due che ho acquistato. Sono random, la Lego le manda così, random, sperando di non aver beccato già dei doppioni. E poi acquisterò le altre 14 e farò poi sul canale l'unboxing, l'apertura delle bustine, come ho fatto già con quelle di Lego Batman Movie. Bellissime. Già potete intravedere alcune delle minifigure presenti. davvero una bella serie. Ok, come vi dicevo, a questo manca un piccolo set della linea Star Wars che mi ha permesso di ricevere in omaggio la Polypack. Ok, quindi per il momento questo è tutto. Ecco qua, voglio sistemare in modo da farvi vedere tutti gli acquisti. Eccoci qua. Ok ragazzi, come sempre io vi invito a farmi sapere cosa ne pensate voi dei set acquistati, di questi unboxing così frequenti. Se magari vi piacerebbe vederne uno solo al mese con tutti gli acquisti effettuati, o magari ecco, come sto facendo in questo periodo, uno a settimana, o anche due a settimana. Quindi lasciate commenti e like se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale numerosi. Non vi resta che augurare a tutti buona costruzione e al prossimo video. Ciao ragazzi. Grazie. 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 Grazie.